9 consiglieri su 15 sono intervenuti questa mattina a Palazzo della Provincia di Piazza 15 Marzo per prendere parte al Consiglio Provinciale convocato da Graziano Di Natale in veste di consigliere anziano e quindi di presidente facente funzioni. Oltre a Di Natale erano presenti i consiglieri Iacucci, Figliuzzi, Nicoletti, Rizzo, Capalbo, Nociti, Pascarelli e Lucisano a sottolineare il fatto che i consiglieri presenti hanno preso atto della decadenza di Mario Occhiuto da presidente della provincia di Cosenza. 4 punti all'ordine del giorno tra cui la presa d'atto della decadenza del consigliere Lino Di Nardo che sarà surrogato da Basilio Ferrari come da ordinanza del Tribunale di Cosenza, la comunicazione del prefetto di Cosenza sulla posizione del consigliere Lucisano anche egli in fase di decadenza in virtù dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale di Rossano. La presa d'atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato che secondo l'interpretazione di Di Natale gli conferisce i poteri di presidente facente funzione. Il Consiglio ha poi votato l'atto di indirizzo con il quale avviare le procedure di indizione delle elezioni per il nuovo presidente della provincia. La questione è stata affrontata sotto due aspetti, quello politico e quello giuridico, come sottolineato dall'intervento del consigliere Franco Iacucci. Un consiglio a microfoni spenti, diverso dai classici consigli dove si è avvertita la mancanza dell'apporto della segreteria, un'amministrazione provinciale che risente il peso della diatriba con dipendenti e cittadini che ne subiscono inevitabilmente un rallentamento e che non possono più tollerare la mancanza di garanzia dei diritti fondamentali che minano il regolare corso di un'azione amministrativa efficiente. Fiorenza Gonzales per la CNews24. Fiorenza Gonzales per la CNews24.